Siamo con Giovanni e il suo team un po' di mesi fa, quando ero in Modena. Abbiamo avuto la possibilità di parlare del Maserati Multi-70, come poter essere migliorato. Abbiamo potuto usare le nostre strumenti analitiche per aiutare la performance del boat. Sono state fatte delle analisi con dei modelli a computer, che quindi sono delle simulazioni, ma sono simulazioni molto precise, che evidenziano quali sono i punti critici e quali sono i punti più facilmente ottimizzabili. Non è tutto così semplice, però sono contento perché abbiamo individuato una serie di punti dove si può lavorare che possono dare dei grossi risultati. Nel mondo del motorsport e la performance del boat è veramente tutto sui dettagli, e ci sono alcuni migliori cambiamenti che succedono in un boat. dal punto di vista aerodinamico, appunto, una barca come il Maserati viaggia sul mare a 45 nodi vuol dire 80-85 all'ora, 85 all'ora l'aerodinamica diventa molto importante, spesso su un oggetto che è così grande, perché comunque è una piattaforma larga 17 metri, lunga 21 metri, che ha un albero, delle vele eccetera. per cui tutte le competenze di automotive e quindi di analisi dell'aerodinamica, delle scocche, delle macchine eccetera possono essere assolutamente utilizzate per ottimizzare i vari problematiche di aerodinamica che abbiamo anche noi sulla barca. Credo che c'è molto che possiamo imparare da l'altro. Il boat ha tecnologie, è molto sensibile sia per l'albero e per l'aerodinamica in modo che i veicoli sono. Stiamo aiutando con le forme e l'uso di fibra carbonica per migliorare la performance, migliorare la stessa e migliorare l'aerodinamica, come noi facciamo con i veicoli per domani. I conti che sono stati fatti, le analisi, le simulazioni si parla di un miglioramento del 4% in avanzamento quindi 49 il 4% è tanta roba.